E' così carina! Pronto? Nessuno mi dà attenzione! Ma lo faranno ora! Wow! Bersaglio centrato! Tesoro! Cosa hai fatto? Basta! Ho bisogno di una tata! Qualcuno? Per favore! Chiamatemi! Ecco te! Eh? Cos'è questo? Caspita! La nuova tata sta arrivando! Facciamolo! Una nuova tata? Carne fresca! Un ferro da stiro incustodito? Bene! Non credo proprio! Ehi! Sarà divertente! Davvero? Ho qualcosa in mente! Come sono affilate! E se le infilassi in quel coso? Sembra promettente! No, no, no! Ecco! Ma dai! Ma perché? Che peccato! Ho ancora queste però! Addio! Presa! Addio! Torna qui! Pagherai per quello che hai fatto! No! Sono più veloce del fulmine! Tralenta! Fermati! Cosa? Pronto? Vieni, grazie! Cosa? Hai problemi di insetti? Insetti? Non il disinfestatore! Aiuto! Puoi correre ma non puoi nasconderti! Addio! Che figata! Ciao! Sono la tua nuova tata! Forza, pesciolino! È tutto ok! Ti metterà proprio qui! Wow! Cos'è? Ah! Che male! Come la tiro fuori? Sembra brutto! Granchio, sai cosa fare? Ecco! Vedi? È tutto fatto! Cosa? Ce ne sono ancora così tante! Ma non preoccuparti! Le ho prese tutte! Perché l'hai fatto? Come sei carino! Ehi, qualcuno ha chiamato! Wow! Tu verrai con me! No! Tutto in un solo giorno di lavoro! Ci vediamo! Ciao, c'è qualcuno? La tua nuova tata è qui! È ora di dormire! È ora di cosa? Guardami negli occhi! Ok! Stai diventando molto assonnato! È ora di andare a letto! Sogni d'oro, mio piccolo amico! L'oscurità ti attende! Oh, aspetta! Buonanotte! No! Ho paura del buio! Non uscirei più di qui! Lo vedremo! Oh, tata! Che c'è? Ok! Ciao! Quell'odore è aglio! Ce l'ho fatta! Chi è che dorme ora? Dove è andato quel ragazzino? Quaggiù! Guarda quanto aglio! Tutto tranne l'aglio! Vogliono una tata? Cos'è questo pasticcio? Sembra sia successo qualcosa di terribile! Ho paura! Salve! Oh, ciao! Sei il ragazzo nella foto! Ottimo! Vediamo! Puzzano! È un fungo! Ho bisogno di un campione! Stai fermo! Bene! Ma continuiamo! Continuiamo! Wow! Cosa ha fatto? Ottimo lavoro! È ora di ripulirli! Oh no! Vado! Porco, sparisci! C'è un vero piede sotto a tutta questa sporcizia! Oh, come sono forte! Forte? Ma io sono intelligente! Venite qui, piccoli funghetti! Creerò una torta di fango! Sembra buona! Adesso apri! Buon appetito! L'uccellino vuole uno spuntino? Apri! È tutto tuo! Goditelo! E ingoia tutto! Dovrà uscire da qualche parte! Capisci cosa intendo? Ehi, è solo una maglietta! Wow! Buono! C'è nessuno in casa? Chi sei tu? Cosa diavolo? È buonissimo! Ok, andiamo in giro! Hai bisogno di una lavata! Dici? Assolutamente! Ti aiuterò io! Ehi, è fredda! Che cos'è tutto quel rosso? Cosa mi sta succedendo? È solo sciroppo! Rilassati! Non male! Qualcuno vuole divermi? Ehi, togli quei cosi! Sono così buoni! Figo! Dammi! Non male! Oh no! Cosa? Che schifo! Come è potuto succedere? Delizioso! È commestibile! Bene! Sì? Io qui ho finito! Va bene? Suppongo! È ora di svuotare l'acqua sporca! A dopo! Finalmente! Cosa c'è qui? Vuoi una taza, giusto? Eccola! Wow! Tu! Non così in fretta! Sono stanca, ok? Vattene via! Cosa stai guardando? Quelle sono delle porche! Sei proprio un pippone! Cos'hanno le tue gambe? Che c'hai? Questi anelli sono fantastici! Wow! Ehi! Fermati! Cos'è questo? Ok, ora mi stai dando fastidio! Ne ho avuto abbastanza! Non toccarmi! Hai capito? Sono come delle vere manette! Ma le mie dita sono libere! Basta! Ora ti nastro tutto! Stai fermo, mi hai capito? Tesoro, sono a casa! Tesoro? Cosa sta succedendo? Ora che ti piangi... Immagino che io ho finito qui! Cosa ci fai tu qui? Non mi paga? Fattene! Mi dispiace tanto, tesoro! Non preoccuparti! Mamma non se ne andrà via mai più! Mamma! Angelo mio, mi sei mancato! Non andrò mai più in vacanza! Ti voglio bene! Non più tappe per te! Va bene? Vuoi una bibita gassata? È tutta tua! Bevi pure! Oh, lo farò! Non posso più farlo! Aspetta! Ma che parrucca! Non ne vale la pena! Cos'è? È la mia occasione! Non ci serve alcuna tata! Scusami tanto! Sono qui per il posto da tata! Giusto! Alfred! Sei assunta! Questa è la stanza TikTok! Busy, busy, bee! Busy, bee! La palestra! Timotesi tiene in forma, eh? Questa è la stanza della cacca! Io! Chiudete la forza! Scusa! Ecco la mappa! Ti prenderai la mano! Dove dovrei andare adesso? Oh, da questa parte! Timotee! Timotee, fermati! No, ma gioco con me! Sei la nuova stanza? Buona fortuna! Questa è il colore sbagliato! Ciao, Timotee! Ancora tu? Oh, la devo eliminare! Mi sbarazzerò di te! Adesso guarda che faccio! No, non farlo! Oh, so cosa fare! Prendi questo! Mendi! Come ci sei? Aspetta! Wow, bene! Lo venderò più tardi! Come osi! Te ne sentirai! Bene! È tempo di giocare! Tre punti per Timotee! Timotee, forse è ora di pulire! Pulisci tu! Stivato! Wow, ci è mancato poco! Oh! Oh, questo bersaglio mi potrebbe tornare utile! Manca una sola cosa! Ora non sarai in grado di resistermi! Timotee, scommetto che non riesci a prendermi! Come osi! Mi hai mancata! Ci sono! Ti faccio venire io! Ho ancora migliaia di peluche! Prendi questo! Ce l'ho fatta! Bravo, Timotee! Come? Mi hai fregato! Ora sono cavoli tuoi! Alfred? Ecco te, maestro! Il tuo preferito! Che buoni quegli hamburger! Sono tutti per me! Alfred! Sì, signore! Porta il tuo piatto speciale! Ecco lei, signora! Wow, ma grazie! Quale posata dovrei usare? Che confusione! Prendi! Le mani! Oh, grazie! Non è così che... Porta il qualcos'altro! Ecco il piatto del giorno! Sul serio? Una lumaca? Mangia! Ma mi sta guardando! Ballo! Oh, ma guarda! C'è qualcuno! Corri, Gary! Corri! Ma non c'è nessuno! L'hai mangiata? Sì, deliziosa! Ora prendi questo! Timotee! Non dovresti sprecare il cibo! Aspetta che lo dica tua madre! Ma che fai? Oh, manco! Li mangerò più tardi! Ma stai parando! Menti se ne pentirà! Tata! Scarica il posto mio! Che lavoro ingrato! Quale pulsante sarà? Oh, non era questo! Oh, non mai! Ma il pulsante è sbagliato! Sarà sicuramente questo! Au! Una tonnellata di carta igienica! Allora, è schericato! Uomo mio! Ma sono io! Sei tu! Beh, io vado a dormire! Fermati! Prima devi lavarti i denti! L'ho già fatto! Guarda! No, devi spazzolarli di nuovo! Non esiste! Questo ragazzino è fuori controllo! Guarda! Anche Sue si lava i denti! Lo faremo anch'io allora! Ciao ragazzi! Oggi ci laveremo i denti! Conoscete questa tendenza? Sono i perventi! Non si lavano i denti! I miei denti devono essere più bianchi di tutti! Fatto! Oh! Oh! Cosa ci faccio qui? Ehi, tata! Guarda! Oh! Ottimo lavoro! E' ora di dormire, Timotè! Lo... Riavrai domani! Ma è ridicolo! Ho un'altra console! Se crede di essere furba! Devo prendere uno dei poche vorrai! Prenderò anche questo! Timotè, mi dispiace, ma devi andare a dormire! Adoro Fortnite! Ehi, è troppo luminoso! Non mi lasci altra scelta! Ehi, qualcuno riaccenda la luce! Pronto? Forse ho questo un altro interruttore! Tu verrai a casa con me! Ci sono troppi interruttori! Non mi rimane altro che questo! E questo! Cos'hai fatto? Buonanotte, Timotè! Devi raccontarmi una storia! Una storia? Oh, conosco solo una storia! Ma che fai? Scusa per l'odore! Disgustoso! Saluta i calzini! Ciao, Mandy! Ciao, Timotè! Ma fai sul serio? I calzini rossi e bianchi impuzzoliscono il mondo! È così! Noioso! Si è addormentato! Si è addormentato! Ottimo lavoro! Ora devo fare molto piano! Non devo svegliarlo! Non ho scelta! Ci sono quasi... Finalmente! Operazione sbarazzati della tata! Attiva! Ho bisogno dell'abito giusto! Perfetto! Alla stanza d'oro! Troppo veloce! Dove sono i freni? In questa! Tentia! È già pronto? Ci sono quasi, signore! Sbrigati! Vediamo come posso sbarazzarmi di fix! Scherzo dell'ologramma? Noioso! Non ho tempo per creare una ghigliottina! Eccolo qua! Timotè è pronto! Ti piace, signore? I dipinti delle mie vittime! E tu sei la prossima, Mendy! Andiamo! Questo è il nostro museo! Grazie per avermi ci portata, Timotè! Oh, wow! Fantastico! È tempo di giocare! Timotè! Fai attenzione! No! Timotè! Timotè! Prendi questo! Preso! Oh, c'è mancato poco! Accidenti! Tisigata! Vuoi trovare? Divestiti! Oh no! Aghiwaghi è qui da qualche parte! Non ho paura di te! Oh no! Monna Lisa! I manufatti! Oh no! Cos'è questo rumore? Devo sbarazzarmi delle prove! Timotè, hai di nuovo giocato qui dentro! Maggiordomo! Pulisci subito! Oh! Maggiordomo, sistema questo quadro? Sì, signora! Non muoverti! Oh, oh! Che fatica! Ancora un pochino! Non c'è nulla da fare! Quel piccolo! Finalmente un po' di pace e tranquillità! Ma che fa? Si facessi fatti suoi! È fuori combattimento! Ora ne farà uno scherzo! Un po' di schiuma da barba di Alfred! Ancora un po'! Una bella piuma! Sì, non si è presso lì! Timotè! Wow, in questa palestra c'è di tutto! Un tapirulano! Potrei camminarci per tutto il giorno! Sinistra, destra, sinistra, destra! Non posso credere che sia del tutto gratis! Un tapirulano, eh? Ottima scelta! Spero che mi piaccia la mia corsa! Ma che succede? Aspetta! Perché tu? Piccolo! Che fatica! Mi devo fare la doccia! Devi assolutamente lavarti! Ma prima ti ci vuole uno scherzetto! Un po' di crema depilatoria male non fa! Ora basta! Non ce la faccio più! Hai vinto tu! Io me ne vado! Chi se ne frega! Io sto organizzando una festa di compleanno con i miei amici! Vedo che hai molti amici! Sì! È culo degli invitati! Sono qui per la festa di Timotè! No, no, amici! Ma, Timotè! Hai un fratello! Odio questa versione povera di me! Ma posso essere io tua amica? Mai! Ok! Ho bisogno di un amico! Ottimo! Ma prima devi farti una doccia! Timotè! Hai ragione! Ma chi è? Te l'ho detto! Non ho amici! Nascondiamoci! Avrò bisogno di una borsa più grande! È un ladro! Andiamo in camera mia! Prenderò questo! Che c'è? Avranno un animale domestico! Potrò pagare l'affitto per due anni! Aspettami! Adesso verrà in camera mia! Come faremo? No! Contrattaccheremo! Ho un'idea! Devo allinearli tutti! O non funzionerà! Devo fare un bel nodo! Sta arrivando! Via, 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 via! Aspettami! La via è libera! Cos'è questo rumore? Sono solo dei giocattoli! Che braggio con il domino! Wow! Che bel finale! Alice? Voi? Attimo lavoro, Mendy! Vediamo chi c'è sotto questa maschera! Alfred? Mi avete beccato! Bravi! Sono due altri che cerchiamo di prendere questo tizio! Dammi cinque! Sì! Sono così orgogliosa di voi! Allora avete delle domande? Ma come ci sei riuscito? L'abbiamo fatto insieme! Perché siamo una squadra! Timoti è amico della sua tata! Che sfignato! Arriva qualcuno! No! Tu sarai mia! Ora servirà la tata! Tata! Prendi! Oh no! Presto mi amerai! Doctore Rivol! Tu non mi avrai mai! Ti sono mancato! No! Vai via! Oh! Bene! Sei tu la nuova tata? Non mi piace! Oh sì! Ma aspetta un attimo! Ciao! Sono la nuova tata! Bene! Fatti i bravi! Ciao! Che un pastitino! Ehi, ragazzino! Puliamo questo pasticcio! Va bene intanto! Pulino tutto quanto! Mi dai una mano? Ti credi di essere furbo, eh? Adesso ti faccio vedere! Oh! Ai, ai, ai! Che male! Ho il mio piede! Povera me! Mi vendi che? Sono più intelligente di te! Ecco che arrivo! Adesso come pensi di cavartela? Come? Cosa mi fai? Hai avuto quello che ti meriti! Rotola! E ripulisci tutto adesso! Cosa hai detto? Tanta cattiva! Vedi? Adesso i giocattoli non sono più sparsi in giro! Cosa? Fai solo serio? Oh! Hai ricevuto un messaggio! Quale messaggio? Uffa! Io ho fame! Dei marshmallows! Tanta cattiva! So cosa fare! Finalmente potrò vendicarmi! Ah 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 ah! Ora sono cavoli i suoi! Ah 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 ah! Oh! Cosa? Oh! La mia faccia! Tom! Devo andare in bagno! Eh! Presto! 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 È peggio di una bomba atomica! Ah! 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 Aspetta! Cosa? Non c'è la carta igienica? Ah! Ah! Oh no! Ah! Ah! Perché a me! Tanta! Oh! Oh! Ahia! Che diavolo! Oh! Puoi fare di nuovo il furbo eh Tommy! Oh Tommy! Oh! Ops! Eh! Esci subito! Eccoti! E dammi qua! Grazie! Oh! Che monello! Eh? Cosa? Che schifo! Aspetta! Ma sta di... Oh! Oh! Volevi farmi uno scherzo? Non è così Tom? Adoro il cioccolato! Ehi ragazzino! Non muoverti! Prendi questo! Senta che schiena! Io me ne vado a letto! Non credo proprio! Che c'è? Prima devi lavarti i denti! No! Prima fammi vedere! Nedi? Non sono sporchi! Guarda di nuovo! Vediamo! Ti aiuterò io! Cosa hanno i miei denti? Rimani fermo! Cosa? È troppo! Adesso ci penso io! Oh! Devo solo strofinare per bene! Ma cosa diavolo hai mangiato Tommy? Basta! Sono puliti! Wow! Brillano! Ogni d'oro! Buonanotte Tom! Oh finalmente! Cosa? Tata! Devi leggermi una storia! Ok! Ecco! Un giorno Liam, un ragazzo di undici anni, è salito sulle montagne russe cosmiche! Indossava degli stivali molto grandi! Che cosa è stato? Chi c'è? Di nuovo lui! Tu mettiti questo! Trovata! Tata! Wow! Wow! Sì! Prendo! Ecco ti qua! Prendi questo! Non avresti dovuto interrompere la mia storia! Come hai usato! Fatti avanti! Ehi Sasa! Ci penso io! Mi serve un'arma! Adesso vedrai! Ah! Oh! 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 Sì! Oh! Wow! Che figata! Tata! Tata! Guarda che! Oh! Ehi! Ciao ragazzino! Continuo pure a giocare! Oh! Ah! Va bene! Oh! 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 Sì! Non puoi battermi! Ora ti sconfiggerò! Oh! Piano! Ok! Mi arrendo! Oh! Oh! Forse no! Ah! Oh! Ti ho mentito! Ah! Ah! Combatti! So qual è il tuo punto debole! Ma! Solentico! Solentico! Continua allora! Mi sto divertendo! Tu! Sto vincendo io! Ne sei certo! È ora di dormire! Dormire? Ora vedrai! Addio per sempre! Spero ti piaccia lassù! Tata! Mi sono divertito tanto! Notte notte! Buonanotte tesoro! Oh! È tornata! Ti prenderò luna! Goditi il viaggio! Che nottata! Cos'è questo suono? Sul serio! Una banana! Credo che sia una specie di trasmettitore! Ehi! Sei tu! Ehi Luna! Sono io! Dove sei? Sto lavorando come Tata! Cosa? Fai la tata! Che vuoi? Tata! Guarda cosa ho trovato! Sono sotto copertura! Idiota! Tom! Perché stai parlando con una banana? La sto mangiando! Guarda! Buona! Luna! Cosa ha quella ragazza? Sempre più strana! Io me ne vado! Jarvis! Jarvis! Ehi Jarvis! Ma non funziona! Riesci a sentirmi! Tata! Hai visto il mio? Che dio! Ehi Jarvis! Mi senti! Ehi Tata! Cosa ci fai qui? Mi sto facendo una doccia! Non ho parole! Ma dove è l'acqua? L'acqua? Acqua! Acqua? Come vuoi! L'acqua sta arrivando! Vedi? Sto facendo la doccia! Ora ora esci! Oh! Qualcosa non mi torna! Dovrò sviarla! Aspetta! Jarvis! Sei tu! Jarvis! Svegliati! Jarvis! Svegliati! Sì Luna! Sono qui! Coppia! 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 Hai qualche novità? Ah! Ah! Eccu! Beh! Accidenti! Luna! Mi dispiace! Sono allergica a qualcosa! Torno subito! Che strano! Che diavolo! Pronto? Luna? Può parlare? Cosa sta succedendo? Le piante possono parlare? Aspetta un attimo! Sto facendo la doccia! La sto mangiando! Mettiti questo! Ora capisco tutto! Sono tornata! Scusa! Dove eravamo? Tata! Aiutami! Tom! Oh no! Aiutami! Che strano! Ok! Oh! Cosa ho calpestato? Oh no! Fai attenta! Tom! Ti salverò io! Wow! Ora devo passare di lato! Sì! Con molta delicatezza! Facilissimo! Wow! 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 Ci sono quasi! Sì! Sei salvo? Stai bene? Bene, bene! Grazie, tata! Conosco il tuo segreto! Cosa? Cosa sta succedendo? I laser non erano reali! Certo che no! Tu sei una sciocca e io sono un genio! Ora ho le prove! Ho le prove! Tom, aspetta! Devo mettere le prove in un posto sicuro! Cosa intendi? Ti ho filmata! So chi sei! Sai chi sono? Tu sei? Tu sei? Non dirlo, dirlo! Tu sei? Una campionessa olympionica! Cosa? Sono una spia! Una spia? Ma come fa una spia ad essere così flessibile? Cosa? Sono anche una campionessa olympionica! Non mi interessa! Adesso pubblicherò il video su YouTube! Tutti ti vedranno! Carica! Non puoi! Lascia che ti mostri qualcosa! Cosa? Cosa? Guarda in basso! Dammi la mano! Cos'è questo posto? Quante cose fighe qui! Ma è fantastico! Divertiti! Cos'è quello? Figo! I miei occhi sono così grandi! Dì anche i miei denti! Cos'altro c'è? Ehi, Tom! Ti ho spaventato, vero? Wow! In questo posto ci sono un sacco di cose fighe! E questo cosa fa? Non mi piace! Fa niente! Wow! Com'è colorato! Cosa fa? Forse è seppur qui! Tom! Oh oh! Tom! Mettilo a... Ok! Lo metterò via! Ma... Nessuno lo saprà! Qui starà al sicuro! Sì! Potrebbe servirmi! Ascolta, Jarvis! Se mi uccideste qualcosa e... Ciao, Tom! Saluta, Jarvis! Aspetta! Ok, Luna! Oh! Come va, ragazzino? Ti stai divertendo? A proposito, Jarvis, hai qualche notizia su Dr. Evil? Sì, Luna! Ora è nell'oceano Atlantico, quindi va tutto bene! Ottimo! Grazie! Wow! Ho un regalo per te! Che figo! Ciao, Jarvis! Un regalo! Ciao! Evviva! Ecco il tuo regalo! Wow! Adesso! Questo è uno zaino speciale! Dentro cosa c'è, Tata? Tra poco vedrai! Ecco chi arriva! Vedi? Un gateboard? Ma non è tutto! Darò lo zaino! Oh, grazie! Sei la tata più figa del mondo! Tesoro, come sei carino! Cos'è stato? È lui! Oh, no, 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 Tom! Devi nasconderti adesso! Che fai? Ti sono mancato! Ciao, doctor! Mai! Ho preso la tua arca! Lasciami andare! Sei mia! No! Tu berrai con me, tesoro! Tata! Devo aiutarla! Ehi! Tu! Lasciala stare! Tu chi sei? Questo ragazzino è tuo! Oh, il mio zaino! Potrebbe esserci qualcosa di utile! Cosa ci fa questo papito qui dentro? Quanto tempo ci vorrà ancora! Cosa? Danna a me! Non solo tuoi! Ecco cosa cercavo! Un po' piccolo! Che la forza sia con me! Ora ti faccio vedere io! No! Lasciami andare! Allora! Bene, ragazzino! Ci si vede! Dove mi trovo? Oh, ehi, Tom! Tu? È la prima volta! Ma che vuoi? Luna! No! Dammi la tua mano, Luna! Vieni qui! Luna! Diamo così tanto! Staremo insieme, per sempre! Cosa? Diavolo! Sapevo che non sarebbe stato facile! Ecco perché ho creato questa! Ti innamorerai di me! E sarai mia! No! Sarai mia! Oh, no! Cosa dovrei fare? Ma certo! Devo solo raggiungerlo! Sì! Prendi Luna! Prendi, mostra malpaggio! E questo io non lo voglio! Ehi, Tom! Stai bene! Andiamo! Sì! Ok! Spregati! E io? Che c'è? Aspetta! Aspetta un attimo! Oh, grazie, Thomas! Sì! Sapevo che saresti tornato indietro! Eccoti qui! Ah! Tu mi servi! Che Diovo! Sbrigati, sbrigati! Certo, tesoro! Dobbiamo tornare a casa! Un muro! C'è un muro! Oh, no! Volete andarmene senza salutare? Ehi, Tom! Ehi, Tom! Fermati! Guidami! Lascialo! Risolviamo la questione una volta per tutti! Attacco arcobaleno a molla! Cosa mi sta succedendo? Dottor Evil, sei così bello! No, sei bellissimo! Grazie! Accidenti! Questa roba è pericolosa! Oh, sto come uscire di qui! Come? Grande idea! Forse non erano così grandi idea! Ragazzi! Sono così bello! Ok! Come è polveroso! Siamo a casa! Mi sono divertita così tanto, Tata! Sì, grazie per avermi salvata! E di che? Siamo una squadra di spie! Evviva! Evviva! Ecco che arrivo! Non muoverti! Ehi, sono io! Rilassatevi! Ottimo lavoro, ragazzino! Lo so! Sì, signore! Ok! Oh no! Dobbiamo muoverci! Luna, abbiamo una nuova missione! Oh, madonna! La mia Tata! Aspetta, dammi solo un minuto! Tesoro, ho qualcosa per te! Eh? Ecco! Lui è il tuo nuovo amico! Oh! Grazie! Tieni sempre Dino con te! Così saprò che stai bene! Ciao, tesoro! Ciao, ciao, Tata! Ciao, Tata! Mmm-mm-mm!